L'università non a Scampia, ma l'università per Scampia, che cambia anche la narrazione che fino ad oggi ne abbiamo subito, di un quartiere che era solamente Camorra. Tutto è pronto per l'inizio dell'anno accademico nella nuova sede di Scampia dell'Università Federico II, dove partono i corsi per le professioni sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia. La struttura è stata realizzata dal Comune di Napoli, che ne è proprietario, con un progetto costato 51 milioni di euro, finanziato con fondi comunali e col Fondo Sviluppo e Coesione, attraverso un accordo quadro firmato con la Regione Campania. L'università sorge sull'area dove un tempo c'era una delle vele che è stata demolita ed è il primo tassello di un progetto ambizioso e complesso che prevede, oltre a questo, la demolizione di tutte le vele tranne una, la ricostruzione degli alloggi nella grande area dell'otto, cosiddetto l'otto M, quindi di fronte appunto al parco pubblico di Scampia, la produzione di nuovi servizi di prossimità e la riqualificazione di tutti gli spazi aperti. Al centro della struttura a pianta circolare, una corte illuminata dalla luce naturale collega internamente i diversi spazi. Dei sette piani dell'edificio, quattro sono riservati alla didattica, uno ai laboratori e due all'area clinica, che entrerà in funzione successivamente. È un tassello del nostro programma di investimento con Scampia, che significa maggiore qualità quotidiana, quindi manutenzione del verde, la manutenzione del parco, la possibilità di migliorare i trasporti in questa parte importante della città, anche le nuove piste ciclabili, il grande piano di restart Scampia, con l'abbattimento e la ricostruzione, e in alcuni casi la riqualificazione delle vele, continuando il percorso che già era stato avviato in passato a Scampia, rafforzandolo con il grande investimento del PNRR. In linea col piano urbano della mobilità sostenibile, saranno realizzati nel quartiere 14 chilometri di pista ciclabile, che fra l'altro collegheranno l'Università con la fermata Piscino-La Scampia della metro Linea 1. Il Comune accompagnerà il percorso di crescita e di sviluppo della Università Scampia, insieme ovviamente alla Federico II, creando occasioni culturali, occasioni di integrazione e di crescita del quartiere. Grazie a tutti!